Un giovane di 25 anni, Antonio Fabiano, di Vieste, è stato ucciso con alcuni colpi di pistole Kalashnikov da persone non ancora identificate. L'aguato è venuto sotto la sua abitazione in via Trinitapoli intorno alle 23. Fabiano, che a quanto si è saputo era legato al clan di Marco Raduano, è stato ferito con alcuni colpi d'arma da fuoco all'addome mentre era sotto la sua abitazione a Vieste. A causa delle condizioni apparsi subito molto gravi è stato trasportato presso la casa a sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è deceduto poche ore dopo. L'aguato, secondo gli investigatori, sarebbe venuto nell'ambito della sanguinosa guerra di mafia che da anni si sta consumando tra due clan in lotta per il controllo del traffico di droga. Sull'omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Foggia.